Con l'imperativo di vincere per cancellare la fragorosa sconfitta rimediata con il Chieti e provare la risalita in classifica l'Avezzano di scena al Lanciano. Lo stadio Guido Biondi con Alessandro Pendenza che recupera e viene riproposto al centro dell'attacco da Torti fuori Puglielli per un risentimento muscolare decisamente meglio. Il Lanciano in apertura con Piccozzi che prova a sfruttare un'indecisione della difesa bianco-verde Mattia Piccozzi un ottimo primo tempo con i suoi costanti inserimenti sulla destra e Mirko Imperatrice il punto di riferimento centrale di Giuseppe Di Pasquale ancora Piccozzi. Stavolta serve Lombardi il colpo di testa che si perde sul fondo ottima la combinazione da parte dei calciatori frentani ma al primo a fondo passa l'Avezzano un gol meraviglioso. Quello di Spinola con la palla che si infila imparabilmente per Nicola Scutti che sostituisce lo squalificato Rossetti. In vantaggio Lavezzano che mette la freccia dopo un avvio non esaltante. Ancora Spinola Pendenza che reclama il pallone al centro dell'area e il rimpallo tra le proteste dei giocatori frentani che favorisce Spinola doppietta. Il risultato personale per lui in pratica quasi chiusa la partita già nel primo tempo potrebbe triplicare prima dell'intervallo la squadra di Torti che chiude in vantaggio nel primo tempo sul parziale di 0-2 ma dilaga nella ripresa con Alessandro Pendenza che si accentra si porta il pallone sul destro la conclusione dalla distanza ma ha qualche responsabilità per Nicola Scutti. E il 3-0 il risultato inizia a farsi pesante. Martin Blanco appena entrato in campo costringe in corner Scutti ma il Lanciano si tuffa in avanti con orgoglio di Girolamo. Chiude su Del Vecchio in uscita prima del 4-0 firmato da Martin Blanco che sfrutta il 3-2 dell'Avezzano passivo sempre più ampio e Lanciano adesso in difficoltà. Fallisce ancora Blanco che potrebbe segnare la doppietta personale tutto solo rimandato. Prima però uno degli ultimi sussulti frentani con Aaron Lombardi. Ottimo l'intervento di Michael di Girolamo sfiora ancora il gol l'Avezzano con Pelino. Avezzano che adesso Mara maldeggia e trova anche lo 0-5 con Martin Blanco che realizza una doppietta qualche istante prima dello scadere. Mentre Scutti evita di petto la sesta marcatura ma può bastare così sconfitta per il Lanciano dopo un buon avvio. Ma è la prima vittoria per la squadra di Torti allo stadio Guido Biondi. Il rilancio dei Biancoverdi, il risultato finale. Lanciano 0, Avezzano 5.